Hello bella gente, benvenuti in questo prossimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi vi spiegherò come avere Instagram nero. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. E' un procedimento che funziona su tutti i dispositivi, anche quelli più vecchi, quindi non preoccupatevi se avete un dispositivo che non monta Android 10 o comunque iOS 13 perché potete avere lo stesso Instagram nero. E' un procedimento davvero molto molto semplice, questo per avere la dark mode su Instagram o comunque in generale su altre parti anche del telefono. Quindi ragazzi mi raccomando restate fino alla fine del video e fatemi sapere se voleste vedere dei video tipo What's on my smartphone o What's on my PC perché sarei ben felice di portarveli. Dato soprattutto che sto cercando di passare al lato minimalista della forza, se riferimenti puramente casuali a Star Wars. Ok, come vedete il procedimento è molto semplice, aprite il pre-store, digitate dark mode e vi comparirà questa applicazione con l'immagine della luna. Quindi ovviamente una volta che avete visto che quella è l'applicazione appunto la installate e successivamente la aprite. Andandola ad aprire si presenterà in questo modo, avrete day mode, night mode e auto. Day mode sarà quello predefinito e sarà il tema chiaro, voi cliccate su night mode e vi comparirà appunto il tema scuro per quasi tutte le applicazioni sul vostro smartphone. Chiudete tutto e adesso potrete gustarvi il vostro Instagram nero, come vedete appunto è total black, sia la home sia comunque anche il vostro profilo. E niente, questo è tutto. Ragazzi, quindi come avete visto questo era il video, questo era il procedimento che è stato davvero molto molto semplice. Io vi invito a passare anche dal video di Dario Torrisi da cui ho preso l'ispirazione per realizzare questo video perché questa applicazione appunto l'ho scoperta da lui. Quindi mi sembra il caso di dargli i crediti appunto per questo video. Quindi niente ragazzi, spero che voi vi divertiate insieme al vostro Instagram nero. E se volete altri video del genere, a tema minimalista o comunque a tema tecnologico eccetera, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che sarò ben felice di portarveli. Quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se non è ancora il fatto. E noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video sempre qua sul canale. Bella!